Musica Mercoledì 14 marzo, il sole sorge le 6 e 31 e tramonta le 18 e 17. La luna si leva le 5 e 06 e tramonta le 15 e 09. La fazza è la luna in ultimo quarto. Eva nacque tra il 1205 e il 1210 in un ambiente certamente agiato. Fu combattuta fra la vita civile e quella di reclusa. La sua vocazione infatti non fu subito chiara. Entrò nel monastero di San Martino a Liegi dove riceveva spesso la visita di Santa Giuliana di Corniglion che le confidava le sue visioni e il suo grande desiderio di vedere istituito un culto che glorificasse il sacramento dell'Eucarestia. E proprio per questo scopo Eva si adoperò presso il vescovo di Liegi Enrico de Gueldre affinché chiedesse a Urbano IV un decreto in merito. Il pontefice l'8 settembre del 1264 le inviò a una bolla in cui le annunciava l'istituzione della festa del Corpus Domini per tutta la Chiesa Universale chiedendole di diffonderne il testo proprio della ricorrenza. Meglio un magro accordo che una grassa sentenza. Data